All'esito delle risultanze di un'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, il sequestro preventivo per equivalente di beni e somme di denaro per oltre 100.000 euro nei confronti di una sedicenne maga di Capaccio Pestum e dei suoi familiari. Il provvedimento cautelare, disposto dall'autorità giudiziaria, è giunto al termine di una complessa investigazione di polizia economico-finanziaria condotta dai finanzieri della Compagnia di Agropoli diretta dal Capitano Ciro Sannino, dalla quale è emerso che la sedicenne maga aveva carpito la buona fede di una signora agropolese facendosi consegnare oltre 100.000 euro che erano poi finiti sui conti correnti. In particolare, le Fiamme Gialle hanno accertato che la maga aveva convinto la vittima che la famiglia di quest'ultima era stata oggetto di fatture, malocchio e altri fenomeni paranormali che avrebbero comportato addirittura la morte imminente del figlio della donna agropolese. Per nulla irretiti dalle arti paranormali, invece, i finanzieri hanno sequestrato su ordine della magistratura un appartamento, conti correnti e polize intestate all'intero nucleo familiare della sedicente maga.